Gentili telespettatori, buona giornata. All'aria che tira Salvini se la prende con il conduttore David Parenzo dicendogli questa domanda mi fa capire qual è il vostro giornalismo. Caro Matteo Salvini se tu intervieni in un programma di La 7 televisione di sinistra in un programma televisivo l'aria che tira di sinistra con un conduttore David Parenzo di sinistra con ospiti di sinistra dove l'obiettivo è sempre comunque discreditare il centrodestra e tu capo del secondo partito politico molto discusso e molto attaccato a sinistra ti fa intervistare ovviamente queste persone cercheranno di metterti in difficoltà il più possibile e matematico. Imparati dalla Schlein che va solo in programmi amici, va solo da Floris e da Formigli anche se lei li reputa amici ma loro proprio questi amiconi non sono, cioè non le ridono in faccia ma poco ci manca, chiaro? È un po' quando tu credi di avere un amico invece tu credi di avere un amico e quello non è tuo amico, non vede in te la stessa cosa. Ma qual è la domanda che ha fatto imbestialire Salvini? Questa domanda mi fa capire qual è il vostro giornalismo. A cosa si riferisce il capo della Lega? Si parla naturalmente dell'esito delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria della candidata del campo largo PD 5 stelle Alessandra Todde. Alla fine del conteggio 5.300 e qualcosa di voti ha vinto perché il centrodestra si sono fatti dispetti come i bambini dell'asilo infantile e praticamente i leghisti non hanno votato per Todde. Hanno votato per la Lega ma con il voto disgiunto non hanno votato per Todde se avessero votato per Truzzo se avessero votato per Truzzo avrebbe vinto anche con un discreto ampio margine e oggi non parleremo più della Sardegna ma parleremo di una conferma del centrodestra in Italia. In studio c'è Massimo Cacciari che spiegava che a suo modo di vedere il centrodestra dovrebbe tornare allo schema classico ossia con la Lega a presidiare l'editorato del Nord e Fratelli d'Italia a concentrarsi sul centro e sul mezzogiorno. Il consiglio di Cacciari, filosofo di sinistra ormai odia il partito democratico Cacciari, il consiglio viene girato dall'inviata del programma al leader della Lega che si trova a Pescara dove si trova per un appuntamento elettorale in visto delle elezioni del prossimo 10 di marzo. Le regionali in Abruzzo dove ci sarà Marco Marsilio candidato che è il presidente di regione in carica per il centrodestra e Luciano D'Amico candidato per il centrosinistra. Il vice premier dice alla giornalista che non intende rilasciare dichiarazioni ma Parenzo dallo studio insiste chiedigli solo se la Lega deve tornare al Nord così come chiedeva il professor Cacciari di cui ha grande stima al Nord perché in Sardegna non è andata troppo bene per la Lega che è scesa sotto il 4% ma Salvini secco replica ecco questa domanda mi fa capire qual è il giornalismo di la 7 ma come sorride Parenzo chiedevamo solo se necessario ricollocarsi dopo questo risultato siamo noi conclude l'inviata che rigira la linea in studio. Insomma diciamo che Salvini non ha partecipato a questa trasmissione gli è stata fatta una domanda e lui ha risposto questa domanda mi fa capire qual è il giornalismo di 2007. Beh la domanda di Parenzo era perché la Lega non si ritira al Nord Italia un po' com'era la Lega di Umberto Bossi ecco la Lega Nord dove la Lega Nord però oggi non avrebbe neanche più senso perché Salvini ha fatto questa Lega Nazionale prima gli italiani ma diciamo che al centro-sud inizialmente lo votavano quando lui fermava gli sbarchi dei clandestini quando era il ministero dell'interno prendeva tanti voti anche dal centro-sud e prendeva voti da tutta Italia infatti era arrivato al 35% però poi magicamente quelli del centro-sud dopo l'illusione del Salvini che fermava i clandestini si sono ricordati hanno detto ma Salvini non era quello che con Bossi diceva che noi non contavamo che noi eravamo dopo il po' in giù non era non era Italia ma neanche quella che era in su era Italia era la Padania ma non era quello che saltellava e cantava contro di Napoli insomma dopo un po' al centro-sud hanno cominciato a realizzare hanno detto ma cosa votiamo Salvini e la Lega è crollata completamente al centro-sud però non può rimanere non può essere di nuovo tornare ad essere un partito del nord perché alla fine capite bene che il partito del nord la Lega Lombarda era forte era forte perché era un partito regionale che ce l'aveva con chi viveva dal po' in giù Roma ladrona la Lega non perdona vi ricordate l'ampolla il fiume il parlamento del nord la Padania Padania is not Italy la Padania non è Italia ecco attecchiva quella Lega su un tipo di elettorato che ben potete identificare che tipo di classico elettorato era quello oggi la Lega dove Salvini non dice più quelle cose non canta e saltella più contro i napoletani come una volta una Lega che torna al nord senza l'attitudine che aveva ai tempi di Bossi non avrebbe come può tornare un partito nazionale a diventare un partito locale quindi la domanda di Parenzo è abbastanza è abbastanza diciamo pesantuccia però quello è un giornalista fa le domande io se fossi stato in Salvini mi sarei fermato e avrei fatto un ragionamento avrei dato una risposta alla fine anche al giornalista più fazioso eccetera eccetera gli si può dare una risposta ci si ferma e gli si dice io la penso così 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 la Lega è un partito nazionale non è un partito regionale eccetera eccetera grazie a tutti e arrivederci a presto